Facciamo gol per i diritti dello sport Insieme ed uniti per i diritti delle sportive e degli sportivi Facciamo gol anche con le mani per i diritti dello sport Tutti uniti contro le discriminazioni sportive Prendiamo un po' le discriminazioni sportive Lo sport è sempre sceso in campo per lottare per avere il riconoscimento dei diritti civili Ne parliamo a Fagnano Lona venerdì 9 dicembre alle 21 in Aula Magna delle Scuole Fermi